praticamente tutto molto legato al fatto che uno dice ma ti pare che non ci riesco ecco una cosa del genere questo è un po' troppo largo allora io normalmente dipingo con un'altra tecnica completamente diversa però adesso mi sono fissato che vorrei allora adesso vediamo che succede se io comincio a dargli troppo giallo ah c'ho i colori vecchi sto lavorando con il doppio handicap questa è una tecnica che si chiama wet on wet in inglese bagnato su bagnato in italiano poi anche gli inglesi la chiamano alla prima allora io oggi non volevo buttare colori per cui io sto facendo tentativi eh ragazzi quindi non è che io sto facendo tentativi eh ragazzi quindi non è che poi occhi troppo grande perché i i Grazie. Ok, adesso abbiamo dei bianchi da dare, ma mi prendo proprio il bianco, bianco, e addirittura prendo un bianco di titanio. Grazie. Come sono rigido. Grazie. Per oggi ok, domani continuiamo.